Ehi la ciurma, io sono Mercedes e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions. Chi sta da ora direte a voi viking, diranno altri Rome, è la risposta corretta che stavamo cercando e quindi andiamo nelle strade per andare al mercato, che al mercato mio padre compro, non compro al mercato, ma insomma. Che al mercato mio padre comprò, non siamo in nessuna fiera dell'est, però rispetto all'Asia, no, siamo a ovest, rispetto all'A, siamo a ovest. No, siamo qua con Sineros. Ciao. Ciao. Non c'è qualcosa che hai bisogno? In realtà non ne ho bisogno, perché andiamo direttamente da Giulia perché mi sembra che non abbiamo bisogno di altro. Non mi ricordo cosa proponeva, ma non sono del tutto convinto. Più che altro c'era le cose di vini qua, ma si è sbloccato qualcosa. Cioè, in cinque anni dovrebbe essere nato il bambino, no? Boh, non c'è detto niente. Non mi piace tanto sta roba qua che è saltato tutto all'improvviso da una parte all'altra e non sapevo nulla di quello che avevamo intavolato un attimo fa. Cioè, c'era bezza che ci stava provando con Yulia? Eh, mi dimentico di quanto sia graziosa la sua sorella. Salve Legate. Vitellio, è molto buono di vederti dopo tutto questo tempo. Oh, grazie. Non era una campagna facile, ma... ora la mia famiglia ha due uomini nel senato. Che ti porta al mercato oggi? Eh, cos'altro? Sembra che abbiamo finito la farina. Sicuramente hai Serwey per questo motivo. È buono che sei qui, però. Sembra che il po' Llewiana è harassato da alcuni individui meno virtuosi quando visitando il mercato. Si parla con persone che non dovrebbe parlare. Non sai mai dove questo tipo di cosa avrà. Ci sono scampoli e tanti all'interno della città. Senato, senato! C'è qualcuno che prende la tua corda? Si parla! Guarda! Cosa? Non mi senti... Tu sei certo. Si è morto. Lo vedo. Lo vediamo. Lo vediamo. Lo vediamo. Lo vediamo. Prendiamo! Non c'è nessuno di me. Soprattutto... Cosa stupidezza ruote in tua famiglia o sei eccezionale in questo modo? Llewiana, stai qui! Chi era quella moglie? Un vecchio amico che appare esattamente quando ne abbiamo bisogno. Ma non lo so che era qui. Bambini Lorco e Sky Evola sono molto busi questi giorni. Non so esattamente cosa sta succedendo. Dove sta facendo qui? Pensi che stessi spiando? Penso che sempre l'ha fatto. Ma non l'ha mai sbagliato molto. C'è qualcosa che dovrebbe essere cambiato. Ma non lo so. Ha disperato un po' prima. Mi fa nervoso. Sky Evola potrebbe essere il ragazzo, ma Lorco sempre mi spiega. Dovresti aver visto qualcosa che potrebbe darci almeno un'idea di cosa stanno pianificando. Si stanno trattando bene? Ti stanno trattando bene? Mi? Oh, sì. Soprattutto bene, ancora. Sky Evola mi trattando come una queen. Non è vero che mi stanno trattando contro la mia famiglia. Sì, veloce. Volevi dirmi qualcosa? Sky Evola ha lasciato un numero di manifesti strani di vendita nella biblioteca. Sì, sono spiegato. Sono sentito molti soldi all'Egypte. Non ho idea di come, ma potrei essere potuta ritrovare i documenti per te. Ecco, però io. Meglio non prendere il rischio fin da dove sapere di cosa stanno occupando. Sento la tua decisione, Wale, fratello. Ecco, calida. E' una idea ludicrante. Ma chi dice che non puoi fare vino senza olive? Il mio vino sarà unico. Hai mai pensato al motivo per cui nessuno fa vino senza olive? È stato un lungo tempo. Sì, è stupido. È bello vederti ancora. Roma non era la stessa senza di te. È bello vedere te anche. Scusate che non mi arrivo a visitare. C'è qualcosa che sempre si è arrivato. Ho ricevuto un messaggio dal Consul Pro. Il dice che mi dovrai ritrovare molto presto. Non può essere una coincidenza. L'apparizione di Lurko, i documenti di Livia, di cui Livia stava parlando, erano Lucullo. Se conosciò Dominus Lucullus, lui avrebbe sentito un rider per te con tutte le instruzioni. Sire Rosso, trova Bestie e Kaizo e portali via alla mia villa. Una precauzione razionale. Potremmo presto necessario l'assistenza. Tu dovresti andare avanti. Ho sentito che il tempo è dell'essenza. Ok. Stavano pagato 1.000 denari per lui. Ma tu mi hai detto che non era molto buono a lavorare. Ora è stato trattato come un attore. Apparentemente, è abbastanza buono a... inizialmente. Muoviamoci, visto che stanno pianificando qualche complotto non buono. inizialmente. per la nostra vita. Allora, Allora, l'assistente. Allora, Scusami. Scusami. Prego, se figuri. Chcesz mnie? Chcesz ten messenger leave his cup balanced precariously on the riding? How inconsiderably. It arrived just afternoon. The rider insists on giving the message to you. It appears this man was instructed to meet you here as well. Salway, what's going on? Of course, my friend. The message, please. You must leave everything and come to Nazamone's immediately. We're in grave danger. And I'm afraid in this case, we refers to both our family and Rome itself. Oh, yeah. It seems we have underestimated Watellius Lerker. Although the little brother wields no political power of significance, he is the de facto leader of his family. An ambitious man who isn't reckless makes an enemy to be reckoned with. His friendly demeanor masks a molten core of vengeful desire. He still remembers how we dismantled their illegal operations in Asia. And I'm afraid he wants our lives in return. I have reason to believe Lurko is planning something big. My speculatories say he's preparing to remove me from my position in Nazamone's by force and make it look like a local uprising. If he succeed, Rome is likely to lose control of the entire territory. Giving Lurko the perfect excuse to challenge the current consul. We can't allow him to go ahead. I need your help. Reconstitute Legia Wictrix. I know they are still loyal to you. Then sail for Nazamone immediately. A battle ready army will be the last thing Lurko would expect. Do not despair. Know that the sun is brightest following the darkest day. See this as an opportunity. If we can turn the tables on Lurko, we can at last expose him for the crook he is. I await your arrival anxiously. Your Patronus and your dear friend. Lucchius, Lucchinius, Luccholus. I could not find Kaezo, but I've brought Bestia. Do not worry, I'm here, Cinerus. You are looking good, Bestia. You have recovered from our last fight. The injuries were not a problem. But I still owe the arena master for all the damage we caused. It was not settled. They begged us to stop before we leveled the whole place. I would inform the men. But... I don't think I'll be able to leave Rome so easily. I don't think I'll be able to leave so easily. Come be, Bambino? Is this about a woman again? In a way it is. Do you remember that Selah who approached Markkaellus Whipsanius's Markelis? credo appunto si tratta di esprimere da Whipsenius che incidentalmente è sua dominante il problema è... si trattano a me per questo sicuramente non se non ho deciso di aiutare un altro uomo esprimere sicuramente succederò si tratta di essere la madre del mio figlio potrebbe sia o potrebbe solo conosce che Whipsenius e i suoi persone sono sufficienti da crederlo Archeleus Whipsenius ha una reputazione per trattare il suo servizio questo può prendere alcuni giorni ma sicuramente potremmo provare che queste allogazioni non hanno merito grazie, Negate ora prenderò i nostri preparazioni ci rimaneremo come possibile becchi, figlio non preoccuparti, Domina sicuramente ci rimaneremo a casa sicuro e sicuro e sicuro mi preoccupa è che lasciamo lei da sola è vero che non ha potere ok, però no 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 Buongiorno, benvenuti alla villa di Lucullus di Africa Proconsularis. Stati tua identità e intenzione. Ah, siamo già in Africa, ok. Salve legionario, sono Giulio Sempronio Mazzates. Mi presento come richiesto. Facci passare in forma al Proconsul del nostro arrivo, per piacere. Mi scelta per non riconoscerti immediatamente. È stato un lungo giorno. Il Proconsul è attualmente preoccupato. Poi aspettate nel giro, mentre rilevo le noti del tuo arrivo a lui. Comprensibile, il lavoro di un Proconsul non finisce mai. Aspetteremo qui, ma per favore informate il Proconsul rapidamente. I miei uomini sono stanchi del viaggio e hanno bisogno di cibo e di riposo il prima possibile. L'agate? Una parola? Non credo che ti riconosce. E quindi? Questo non riconosce bene. Ci qualcosa sta succedendo. Le piccole cose. Il suo armamento è troppo piccolo per il suo corpo. Non ha chiamato a te nomenico? E hai notato come ha scelato a pronunciare il Proconsul completo nome? Allora. Dicevo che lui che ha un cuore deceptivo, ha solo un cuore deceptivo nel cuore di altri. E è conosco che le uomini sono deceptive dalla natura. Ma che sai che hai ragione, lei? E' per questo motivo sei vecchio ma ancora singolo, Cineros. Ahahah. Brava Iulia, guarda come l'ha chiuso fortissimo. Come facciamo a non sposare una tipi del genere? Beh... Beh, per eserci sul suono di cautione è vero. Finalmente, qualche verità nel mondo del vecchio. Potremmo uccidere tutti. Noi tutti. Beh, questo non è esatto quello che volevo propostare. In realtà è abbastanza l'opposizione. Uccidere tutti è la opzione più cautiva. Non sempre. Sei sicuro che sai il significato di quella parola? Quindi, cosa se è vero e il suo comportamento non è proprio? Ovviamente, non è romano. Non è vero. Se vogliamo combattere, sono pronto. Se vuoi. Non credo sia necessario, però. Non è che ci sia roba da vedere qua in giro... di cui non siamo occupati, magari? No. Mi lascia tranquillo questo uomo, comunque. Mi lascia tranquillo questo uomo, comunque. Soprattutto, abbiamo dovuto prendere precauzioni. Che tipo di problemi di sicurezza? Certo. 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 Siamo instruzati per prendere tutte le specie di precauzioni. Rilinquiare le opzioni. Rilinquiare le opzioni qui, per favore. Non è permesso di prendere le opzioni dentro la villa. Non è vero che ci hai avuto il mio consiglio. No mi piace Sì va bene ma lo sappiamo questo Allora io prenderei Deia Neira e Julia Perché Sinaros serve da supporto e non è il top Lui ha abbastanza il mio stesso stile di combattimento per cui Abbiamo dei punti skill non spesi Per chi per Deia Neira aspetta cosa possiamo metterle Questo non è male Dai ci sta E reinventare cosa abbiamo di nuovo Ah abbiamo la scopa di sicuro La scopa è l'altro affare E il pugnalino Avrei scommesso Ma lei non è l'arco però Aspettivamente l'ho già pensato questo Ma quella gli dà il knockdown e lei ha un meno morale e taunt Nutcracker Vai Ah ma non è comunque Action restored Allora andare qua e lo tiro giù Ah ci sono gli altri fuori però Mi sono altri nemici Sì con degli archi anche tutto Allora Allora Ma c'è solo quello No c'è solo quello Ah no c'è un altro dietro Però sono 22 minuti mi sa che conviene che interrompiamo qua Altrimenti Altrimenti Diventa poi tutto troppo Troppo lungo Io vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi se per caso non l'este già fatto E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti E buona giornata Ciao a tutti